ciao amici voglio parlarvi di un vecchio numero di dylan dog uscito esattamente undici anni fa nell'aprile 2012 l'assassino della porta accanto numero 307 della serie regolare che avevo recuperato in un mercatino e ho letto e ne voglio parlare allora come ho letto in alcuni siti questo era un periodo in cui dylan dog molti criticavano anche l'attuale l'allora curatore giovanni gualdoni di avere storie un po mediocre allora a me questa storia devo dire che mi è piaciuta allora innanzitutto è scritta da fabrizio accatino che è comparso poche volte nella nella serie di dylan dog era comparsa una storia al manacola paura del 2005 che io non ho e disegni era l'allora esordiente sergio girassi disegnatore che a me piace molto allora una storia che se vedete innanzitutto c'è questa copertina che ricorda un po molto anche le copertine di giulia con questo dylan dog quasi etereo fantasma che ha come illuminato da una luce lunare qui c'è la figura sembrerebbe appunto di un di un assassino di una vittima e con questa camicia bianca quindi molto particolare come copertina non mi è dispiaciuta la storia è una storia molto anch'essa molto triste chiaramente non si potrà mai arrivare alla bellezza della storia memoria dall'invisibile che avevo già recensito e se ricordate una recensione particolare lì è un capolavoro lì qui le storie non si potrà più tornare però devo dire che questa storia in cui innanzitutto c'è un trasferimento di dylan a edimburgo anzi a sandville che è un sobborgo di nei pressi di edimburgo quindi in scozia quindi in inglese che va in scozia no territorio per antonomasia avverso agli inglesi no sentiamo anche al film brave art non con quello con melby gibson va in questa pensione questa pensione dove etricamente ci si trovano dei terminati inquilini tra uno di questi e qui ci potrebbe fare anche uno spoiler perché viene già è come se lo stesso autore lo stesso accattino ce lo fa vedere subito chi è c'è un chale wilson che era un serial killer uno che tecamente uccida le donne che adesso si consola uccidendo estrangolando dei poveri topolini che cattura con delle trappole nella cantina in questo palazzo c'è una proprietaria che ha una grassona la tricamente la signora che signora canton la signora canton tricamente che la classica affittuaria molto presa dal denaro che fa tricamente aumenta dei pigioni a questi inquilini poi c'è un personaggio un irlandese che è una specie di peter panna un tale d'alba nel alivan shall douglas eccolo qui che è una specie di peter panna che tecamente cerca di fare ma di di come si dice insomma di cercate un approccio con l'aila che questa donna molto disinibita di origini canadesi e poi abbiamo la filippina la filippina è tricamente un signorino guai che tricamente il signor wilson odia perché è proprio prettamente razzista e inventa una scusa dicendo che essa abbia come un un co abitante quindi cerca in tutti i modi farla sfrattare cioè in questo albo c'è la normalità la normalità che però diventa tristezza diventa consuetudine allora in questo albo quindi non c'è graucio non c'è block ma è come se noi lettori ecco perché mi è piaciuta la storia qui bravo a che tiene come se ma attraverso le lettere qui c'è devo dire che questo qui anzi faccio una parentesi scusatemi c'è un po di giulia ma la vecchia giulia dei tempi belli quelle criminologa perché perché qui c'è molto diario tra dylan dog e lui va in scosse perché deve incontrare deve incontrare una donna deve incontrare una donna che è l'attuale amore della sua vita noi sappiamo che dylan dog ogni albo a queste fidanzate provvisorie non deve incontrare genis mechie mech in tire che lavora come ostetricia nell'ospedale appunto di edimburgo non riuscirà mai a ritrovarla a rivederla ritrovarla nel finale sarà molto amaro l'assassino quello che noi già sappiamo all'inizio perché ci viene scritto la farà franca questo lo posso dire adesso ne uno spoiler che faccio e non mi importa poi di farlo alla fine perché tanto ecco questo non so se qualcuno di voi l'ha letto l'ha letto o questo ovviamente sicuramente sarà per di collezione di land dog sarà uno di quei albi forse dimenticati non lo so ho visto che c'è l'amico sergio di sergio vinci tv che lui ha recensito insomma almeno perché lui l'aveva già recensito questo albo ma quello che volevo dire che tricamente questa storia ci fa capire come le persone cambiano veramente nel rapporto che c'è umano soprattutto in una diciamo in una pensione in cui quelle persone si incontrano allo stesso tempo non si conoscono lui alla fine c'è tutto un malinteso perché wilson pensa che lui l'abbia scoperto in realtà e no e quindi c'è tutto un gioco di disforze ma non è così quindi molto psicologico come albo belli anche disegni belli i disegni di gerasi nel disegnatore che piace molto c'è questo rapporto poi di flashback di questo rapporto ossessivo ossessivo tra il piccolo wilson e la nonna che si la protegge ma allo stesso tempo lo soffoca e quindi forse questa la causa della sua malattia della sua psicopatia ci sono questi appunto diari no c'è questo qui che adesso qui in questa lettera in questo e genis che scrive a dylan c'è questo anche qui c'è la pioggia anche qui c'è la pioggia chiaramente non è la pioggia di memorie dall'invisibile non ripeto non si potrà mai arrivare alla perfezione alla bellezza di quegli alboli del della pille 1988 il numero 19 però è una storia che qui bravo a cattino a comunque sia a tenerci non tanto sulle spine ma a farci capire quanto è banale la normalità se relazionata a qualcosa di negativo e di squallido e ripeto non c'è bloc ma è come se noi sentissimo che lui che il bloc rimprovera l'all boy come se fosse presente non c'è il graucio ma è come se sentissimo le battute come se noi stessi le potessimo fare quindi io è un albo che questo ecco non so io non ho letto di altri di questo periodo io diciamo che del 300 avevo pochi numeri avevo il 324 che poi quel numero che avevo inserito come unione con la nuova se adesso nuovo ritorno di dylan dog anni il 438 adesso ho letto anche devo leggere il numero 331 la morte non basta che poi anche quello recensirò però questo non mi è dispiaciuto non mi è dispiaciuto quindi ecco non so se questo qui forse questo chiaramente non è un dilan classico non c'è graucio non c'è blocco ma ripete come se ci fossero quindi chiaramente io tranquillamente a questa storia da un 7 ripeto non ci sono mostri non ci sono orrori tangibili ma l'orrore forse proprio dato di questo mentale sarà anche che adesso mi sono anche riappassionato molto alla serie sto riseguendo la serie non so se ricordate mistero blu blu notte quella che era condotta da carlo lucarelli molto bella e attraverso appunto youtube sto recuperando alcuni casi serie quindi poi i serial killer tant'è vero che qui c'è proprio un libro che viene citato serial killer scritto col invece che col k col ch scritto da antologia di racconti nua di famizio belardetti e loriano marchiavelli che se riesco a recuperare sarei curioso di leggere quindi ecco il un albo un bell'albo si devo dire mi è piaciuto niente vi invito a se non l'avete letto a recuperarlo a leggerlo e ci vediamo con il prossimo video vi auguro una buona serata ciao a tutti